... Naturalmente dopo sta grande faticata durata 10 giorni E adesso gli tocca il vero assaggio Il vero assaggio arriva eh Ecco che arriva l'assaggio Naturalmente dopo una faticata durata 10 giorni Eh stasera non poteva mancare La sorpresa quasi mi casca addosso L'olio L'olio venuto direttamente dal frantoglio Questa mattina fatta ma è anche la bottiglia Ma c'è tutto certo adesso questa Lo proveremo Lo proveremo Perché non a tutti piacerà naturalmente Ma io sì Buona buona Questa gli tocca stasera La salute e buono Che faticata Grazie a tutti Grazie a tutti